Tanto è cambiato, ma tanto lavoro c'è ancora da fare. Gli applausi al latitante Rosario Pugliese fuori dalla caserma dopo la cattura da parte dei carabinieri sono stati un motivo di forte delusione per il procuratore di Vibo Valencia, Camillo Falvo. Sono rimasto molto deluso per il fatto che c'è stato l'applauso. Questi segnali, l'inchino della processione sotto il balcone del boss, il baciamano al latitante, sono dei segnali terribili perché danno forza all'andrangheta. Io pensavo che a Vibo dopo rinascita questo non sarebbe più successo. Invece è stata una situazione che mi ha deluso tanto. Però devo dire che la gente, la propensione a denunciare è altissima. Sento tanta fiducia intorno a noi, a me, ai ragazzi che lavorano a Vibo, alle forze dell'ordine e credo che sia cambiato tanto. Ancora c'è tanto lavoro da fare. Parlando con i giornalisti a margine del sopralluogo nella nuova aula bunker di Namezia Terme insieme al ministro della giustizia Alfonso Bonafede, al capo della distrettuale antimafia Nicola Gratteri, il procuratore Falvo ha rimarcato l'importanza di processare l'andrangheta nella terra in cui nasce prolifera. L'idea dell'aula bunker nasce non solo per rinascita Scott ma per tutti i processi che potranno essere trattati sia quelli calabresi che addirittura anche quelli di altre regioni, di altri distretti di corte d'appello che magari non sono così attrezzati come non lo era Catanzaro fino a quando non è stata realizzata quest'opera. Noi siamo dovuti andare a Re Bibbia a trattare l'udienza preliminare, magari in futuro anche da Reggio o dalla Sicilia porteranno a sfruttare quest'aula che è una grande opportunità per la giustizia italiana.